Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Arando Tibbol. Oggi avremo insieme un gioco che in brevissimo tempo è diventato un vero e proprio must-have. Un gioco con un'ambientazione iconica e un'idea alla base così geniale da diventare davvero imprescindibile in tutte le nostre librerie. Un gioco che ci consentirà di descrivere la storia, anzi le storie. Sto parlando di Villanus, il gioco che ci permetterà di interpretare i cattivi dei classici Disney. Tutti noi conosciamo perfettamente il mondo Disney e tutti quanti noi abbiamo visto più volte i classici. E qualche volta abbiamo anche pensato che ognuno di loro meritasse una possibilità di vincere. Questo gioco ci darà proprio quella possibilità. Io personalmente trovo che alcuni dei classici Disney avessero come punto di forza propri cattivi. Malefica era così interessante da avere ben due film live action a lei dedicati. Il secondo è in cinema proprio in questi giorni. Capitano Uncino è uno dei personaggi della letteratura così interessante da essere stato sviluppato più volte anche in campo non Disney. Che dire poi di Giafar, un personaggio politico così cattivo ma così risoluto da diventare quasi una specie di Machiavelli. Senza parlare della sua controparte proprio fisica, cioè Giovanni. Un inetto e così ridicolo da essere quasi diventato un personaggio a cui affezionarsi. E scommetto che anche Ursula e la regina di cuori avranno degli estimatori. Questo gioco ci permetterà di interpretare uno di questi sei personaggi e finalmente dare una chance di vincere. Sediamoci attorno al tavolo e andiamo a scoprire assieme la componentistica di questo Bellanus. E ricordate che il peggiore prenderà tutto. Quindi andiamo ad aprire la confezione ma prima andiamo ad analizzare. Allora c'è questi inserti che sono molto fighi a rilievo in dorati. Qui leggiamo il peggiore prende tutto. E qui andiamo ad analizzare il retro della scatola. Questa scatola è un po' particolare. Allora vediamo tutti cattivi. Questa confezione è un po' particolare perché non ha il non ha il cello fan attorno. Io lo trovo una scelta abbastanza accettabile. Già facciamo uno, abbiamo un hobby molto ecologicamente costoso diciamo e quindi diciamo che non è un problema. Io in realtà mi ero portato avanti con questa fase per non usare il coltellino svizzero. È il momento di alzare il coperchio e vedere. Allora abbiamo il regolamento che recita diventa un cattivo Disney poi per vincere devi esplorare le abilità uniche del tuo personaggio e scoprire come aggiungere il tuo obiettivo personale legato alla storia del tuo cattivo. Ogni guida al cattivo ti fornirà suggerimenti e strategie per aggiungere vittoria. Una volta che avrai scoperto il modo migliore per giocare interpretando un determinato cattivo però risolverne un altro. Ci sono dei cattivi, sei cattivi e ognuno raggiunge la vittoria in modo diverso. Andiamo al contenuto. Qui c'è una carrellata di tutti i materiali che poi andremo a vedere un pochino meglio. La panoramica del gioco. La carta è buona. Molto, in realtà è molto poco illustrato. Questo non è un male perché vuol dire che è tutta ciccia. Qui ci sono i tipi di carte, i riferimenti, le domande frequenti. Qui sarà tipo un glossario per spiegarci un pochino le varie parti del gioco. Allora, qui abbiamo dei token. Non sono fustellati, quindi non c'è da fustellare. Dei fustellare quindi è un problema. Questa è la parte migliore di ogni volta, di ogni gioco. Questo è il token. Ce ne sono tantissimi. Poi abbiamo il calderone. Plastica è non granché, sinceramente, ma ce la facciamo bastare. Qui abbiamo le planche dei... no, le planche. Non sono le planche. Queste sono le schede di riferimento dei vari cattivi. Allora, abbiamo Capitano Uncino. La guida al cattivo, vogliamo dire. Ecco qui, all'interno ci sono l'obiettivo, la preparazione speciale. Ovviamente c'è un riferimento al buono del cattivo, cioè Peter Pan. L'ambientazione nell'isola che non c'è, controllare il fato, le azioni extra e così sarà pari per tutti gli altri cattivi. Quindi abbiamo Malefica. La carta non è granché, voglio dire la verità, è molto leggera. Sembra una carta abbastanza... Ah, questa è molto meno. Una carta abbastanza standard. Qui abbiamo l'obiettivo di Malefica, le maledizioni e la foresta di rovi. Quindi penso che ogni cattivo vada imparato in maniera unica. Giovanni, senza terra. L'obiettivo del Principe Giovanni, la prigione. Che bello essere re. Qui ci sono poi le carte fato speciali. Quanto ho capito, le carte fato sono quelle che vanno lanciate contro... Ah, Jafar. Con tutta probabilità io userò all'inizio Jafar. L'obiettivo di Jafar. L'amuleto dello scarabèo. Ovviamente la grande lampada magica. Ottieni quello che ti serve. Ok, andiamo un po' più velocemente. Per quanto la regina di cuori. Onestamente non il mio, tra i cattivi preferiti. Nonostante Alice e il Paese di Maria Fosse un film Disney super mega iconico. Ursula molto meglio. Cattivissima Ursula. Ok, Ursula fa la trasformazione. Il tridente del papà di Ariel. Vi ricordate come si chiama il papa di Ariel. Scrivetemelo nei commenti. Ok, questi sono tutti. Qui abbiamo un piccolo vadenecum con il simbolo delle azioni. Quindi ottenere potere, giocare una carta, l'attivazione, l'uso del fato, muovere un oggetto, un alleato, muovere un eroe, uno scontro, scartare le carte. E qui ci sono, cioè praticamente queste sarebbero le carte riassuntivo con gli obiettivi dei cattivi. Ne abbiamo sei perché come, non so se l'ho ripetuto, ma si gioca fino in sei. Ok, è il momento di aprire le planche. Sono tutte insieme. Qui andremo veloci, spero. in realtà io sono super eccitato per le miniature. Allora, Malefica, che è al cinema in questi giorni. Qui praticamente è come se fosse una specie di playmat, di shit. Qui ci sono i vari ambientazioni, quindi la montagna proibita, la casetta di rosa spina, la foresta e il castello di Re Stefano. Ora va e porta nella tua spira l'oscura forza della mia ira. Qui c'è anche l'obiettivo di Malefica, che non ve lo dirò per non farvelo sapere. Raddoppiate la polvere e frenatela a flusso. Qui abbiamo il Jolly Roger, cioè la nave del Capitano Uncino, la roccia del Teschio, la laguna delle sirene, una delle mie parti preferite di Peter Pan, e l'albero dell'impiccato. Onestamente i miei film Disney preferiti sono proprio Peter Pan e Peter Pan. Peter Pan e Robin Hood. Questa mia corona mi dà il senso del potere. No, vabbè, questo l'ho sbagliato. Era visto che stiamo imitando. Allora, la paressa di Sherwood, la chiesa di Frattac e dei personaggi di Robin Hood. Frattac è probabilmente il mio preferito. Nottingham e la prigione. Andiamo con la regina di Cuori. Se io perdo le staffe, tu perderai la testa. E abbiamo il giardino, il labirinto di Siepi, che era bellissimo, mi ricordo, nel cartone, la foresta di Tugley, e la casa del Bianconiglio. Allora, non hanno preso il nostro preferito, il cappellaio, matto. Allora, il mare e tutte le sue ricchezze sono finalmente sotto il mio potere. Cattivissima Ursula. Il covo di Ursula, mi ricordo pure se fosse molto bello, la nave di Eric, la riva e il palazzo. Arriviamo a già fare il cattivo più cattivo. Lui, in realtà, è il mio cattivo preferito insieme a quello che sarà presente in una delle espansioni di questo gioco, cioè Scar. E abbiamo il palazzo del sultano, la strada di Agabba, l'oasi e la caverna delle meraviglie. Ora è il momento di aprire le carte. Sono a mazzetti. Quindi partiamo con quelle di... Allora, partiamo col dire che la misura delle carte è standard, quindi vanno bene tutte le... tutte le... diciamo le... le sheet del... per Magic. Qui abbiamo i bambini sperduti, Peter Pan, la polvere di fata, Trilly, ancora polvere di fata, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Wendy. Prendiamoci un attimo per vedere come sono state realizzate le illustrazioni e prendiamo proprio Wendy come riferimento. Altri bambini sperduti. Terribile mal di testa. Gianni. Io lo diavo. Terribile mal di testa, polvere di fata. Michele. Schernire. Queste sono le carte che vanno usate contro gli avversari, quelle col bianco. Mentre queste qui, i nere, sono le nostre. Quindi la banda all'arrembaggio, brutto pirata, spaventare, astuzio, smargiasso, banda all'arrembaggio, sciabola, smargiasso, banda all'arrembaggio, ossessione, beh, sappiamo meglio chiunque altro, la mappa all'isola che non c'è, spugna, dispositivo ingegnoso, uncino da cerimonia, spaventare, il cannone, la sciabola ancora, lo smargiasso ancora, l'ossessione ancora, degno avversario, Peter Pan era un degno avversario, signor, sì signore, uncino da cerimonia, degno avversario, signor, sì signore, degno avversario, spaventare, Mr. Stuckley, il cannone, il brutto pirata, e l'astuzio. Queste sono le carte di uncino, è il momento di aprire le carte di Malefica, mi piace molto come è realizzato, la spada della verità, che era nella saga fantasy, la fatina, c'era una volta in un sogno, molto molto bella la carta, Sirena, le guardie, Re Stefano, le guardie, Flora, le guardie, Aurora, va bella addormentata, giusto, la spada da vedare, Umberto, sempre con foto da bambino, ecco abbiamo, Malefica si trasforma in un drago, la foresta di ruovi, lo scagnozzo sinistro, registro svanile, questa è una scena iconicissima, riprendiamoci un atto per vedere, il character design di Malignità, molto bello, queste, vabbè, sono senza sugli, queste, dobbiamo trovare assolutamente, chi ha fatto il design di queste carte, perché davvero, sono davvero stupende, riescono a rivaleggiare in bellezza, con quelle, dei disegni classici, e sono davvero, molto, molto, molto belle, non c'è niente da dire, il lavoro che si è fatto qui, è veramente eccezionale, ok, e anche le carte di Malefica, sono state aperte, apriamo quelle, della regina di Cuori, per bene, ok, ti fa più grande, Capitano Libiccio, e anche Oniglio, beh, niente da dire, andiamo a vedere da vicino, Alice, che cade, ma vabbè, questa forse è meglio, sono stupende le illustrazioni, in questo caso posso dire, che effettivamente qui, il design dedicato a, i personaggi buoni, di questo, della, regina di Cuori, sono davvero, meravigliose, eccola qui, la signora, che gioca a cricche, super cattiva, le carte, l'orologio, freccia, sempre che tira, ti farà più piccola, tagliatele la testa, furia, beh, questa è ancora più furiosa, ok, molte si ripetono, e, ovviamente, in questo caso, panco, picco, panco, hurray, ecco, anche in questo caso, vediamo qui, un attimo, il retro, no, il lavoro che è stato fatto, sul design, in questo caso, è veramente, eccezionale, non, veramente, meraviglioso, sono gli stessi design, per quelle là, per le altre, in bianco, sperando che riescano a mantenere, gli stessi designer, anche per quanto riguarda, le espansioni, allora, Sebastian, riprendere forma, Max, il laberico, Flander, Gimsby, Scuttle, il retritone, si chiama proprio retritone, Eric, invece, è proprio uno dei principi, che mi è stato sempre più antipatico, la dolce Ariel, bellissima, ok, e abbiamo, andiamo ancora a vedere, quella qui, che cipiglio, è la bursola trasformata, ovviamente, se avete qualche ricordo legato a questi cartoni, a me farebbe piacere, che mi diceste quello che vi ricordano, ovviamente, in un commento, io sono, li ho visti quasi tutti, devo ammettere, che forse mi sono perso, con il periodo di draghi, non erano i draghi, erano i dinosauri, che erano effettivamente un periodo abbastanza triste, della Disney, oppure quello dove copiarono il mistero della pietra azzurra. Travestimento, questa scena è mitologica, frattacca, rubare i ricchi per dare ai poveri, rubare i ricchi, è un disegno bellissimo, vorrei avere un artwork, di quello che è stato fatto, il cantagallo sono io, ragazzino, ero proprio il cantagallo, il riccardo, saetta, detto il giorno e il robinù, va per la foresta, e questo è il nostro eroe. Per quanto mi diverta tanto, il riccardo, qui sarà la dolcissima Lady Marian, sarà un vero e proprio problema sfidarlo. Molto bello il design, le carte in bianco, e qui ci abbiamo, la ricompensa, le stupidissime, eccolo qua, codardia, bis, avidità. Le guardie di rinoceronte mi hanno sempre fatto tanto, tanto paura da piccolo, io li vedo con piacere ogni Natale, mi ritaglio un momento di tempo per vedere con la sportiva, qualche cartone animato Disney classico, quindi a parte i vari, canti di Natale e di Topolino, a volte vediamo anche uno di questi, e l'ultimo, l'anno scorso abbiamo visto, con molto piacere, Zio Papareola, ricerca della lampada perduta, il film dedicato, film dedicato, e questo è il cattivissimo sceriffo di Nottingham, film di Disney dedicato a DuckTales, e abbiamo, il genio super cattivissimo, il sultano, che era un fessacchione, i tre desideri, un brutto colpo, Jasmine, allora, ora ho fatto il lancio un sondaggio, era molto meglio il genio a cartone animati, o quello di Will Smith, del live action di quest'anno, tappeto volante, era meraviglioso, e io lo ricordo con tanto affetto, a Raja, nel videogioco per Super NES, degli anni 90, Aladdin, Abu, fantastica Abu, ci è mancato poco, e qui abbiamo le carte, di Giafaro, quelle vere e proprie, sarei un serpente, Iago, il servizio necessario, voi lo sapete ovviamente, che Tom Cruise, era la base, su cui è stato modellato, Aladdin, si queste sono quelle cose, che io non so perché legge, su internet, le quattro cose, che non sai sui film Disney, a me mi fregano sempre, io purtroppo sono costretto, a non possesirmene dal vi dire, allora abbiamo finito con le carte, e ora arriva il pezzo forte, ovvero le miniature, andiamo a vederla vicino, qui abbiamo Capitanoncino, questo è Giovanni, qui abbiamo Ursula, Ursula è veramente di una bellezza, incredibile in questa sua versione, qui abbiamo, Malefica, anche questa miniatura, è veramente spettacolare, cioè veramente qui non ce n'è una, che non è, davvero, stupenda, Giafar, è qualcosa di incredibile, e la regina di cuore, anche in questo caso, è stata davvero realizzata, in maniera spettacolare, rivediamole tutte quante, in carrellata, la regina di cuori, Giafar, anche solo per la bellezza, di queste sei miniature, io penso che questo gioco, sia assolutamente, è un oggetto davvero, molto 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 attraente, la più stupida, è probabilmente questa di Giovanni, che la prenderò, però se vedete, la realizzazione, la corona, e tutto il resto, è davvero, molto molto molto, bella ugualmente, qui c'è il capitano Uncino, guardate la, il mantello, il cappello, sono davvero, delle statuette, ora ne parlavo, con un amico, poco prima, di acquistarle, questo gioco, questo meriterebbe, anche solo, una versione grande, di queste statuette, la Disney, nel Disney, ci dovrebbe pensare, guardate già a far cos'è, una più bella dell'altra, quasi più bella, di Angelina Jolie, questo è quanto, per quanto riguarda, l'unboxing, di Villanus, saranno cattivi, ma sono sicuramente, bellissimi, vi invito a raccontarmi, cosa ne pensate, di questo gioco, se avete intenzione, di provarlo, e se queste, queste componenti, vi hanno, un minimo, emozionato, come stanno emozionando me, detto questo, io, mi appresto, a diventare, super cattivo, e a cominciare, la mia avventura, nel mondo, dei cattivi Disney, vi invito, tenerci in contatto, su Instagram, Facebook, nei commenti, qui, di YouTube, e, ci vediamo, sempre qui, sempre, a Roundtable, ciao a tutti.